Ciao ragazzi, io sono Nikodin e sono ritornato con un nuovo video ho preparato un'altra icona prime per voi ragazzi vediamo un po' come sta messa la squadra questa è la mia squadra Road to Glory ma abbiamo 5 inconcine Bappè da cambiare, Varane da cambiare, il portiere da cambiare ci sono tante cose da cambiare per me sta bene anche Maldini Prime che non vedo l'ora di cambiare Varane però non si sa mai mi raccomando ragazzi lasciate un mi piace iscrivetevi al canale ci mancano pochissimi iscritti solamente 3 per arrivare ai 300 iscritti siamo pronti ragazzi 3, 2, 1, vamonos dai, una bella propria voglio vedere una buona buona propria Brasile? oh no, CAFU, 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 e mo' che cosa facciamo? bella domandina CAFU Prime signori, CAFU Prime ho speso 229.000 crediti per fare questa speriamo che costa CAFU eh, 1,800, 750 dai, 700 ma non male, non male sicuramente lo useremo e sicuro proverò di metterlo da qualche parte in difesa ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video ditemelo voi nei commenti se sono stato fortunato o meno vi ringrazio mi raccomando con i 300 iscritti e alla prossima ciao, ciao